E' uscito per una fatica e non è tornata. E' passato tanto tempo, è successo qualcosa, si è andato al quartiere e il sangue chiama sangue, questa è la regola, lo sei scordato? Che stai pensando anni fa, papì? Tu ci stai? Ci stai, ma puoi fare chi? Sì, ma buono, animale. Voglio un incontro col tuo capo. Se non vuole che gli restituisca il suo nipote a pezzi, digli che voglio chi legacci suo figlio mio. Diciamo che sono tornato in vista. Come tu innamorata? Pog! 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 Pog!